All'orizzonte si profila l'ennesimo rinvio delle elezioni dei libri consorsi. Ad esprimersi sull'opportunità di un rinvio è stato ieri il Presidente della Prima Commissione Affari Istituzionali, Salvatore Cascio. Durante la seduta dell'Assemblea regionale siciliana, Cascio ha dichiarato apertamente che se si andasse al voto con le regole attualmente varate, ci sarebbe un enorme rischio di discresia nella rappresentanza dei comuni. E adesso cosa accadrà? Lo abbiamo chiesto al portavoce del Comitato per lo sviluppo dell'area giolese, Filippo Franzone. La Regione, dopo l'ennesimo pasticcio, dovrà tornare a legiferare nuovamente sull'argomento dei libri consorsi di città metropolitane. Per l'ottava volta dovrà modificare nuovamente la legge. Per quello che noi abbiamo appunto segnalato, per la carenza del voto ponderato, ma non solo. Il Presidente Cascio durante la sua esposizione dei fatti in assemblea regionale dice che ci sono diversi problemi. Ovviamente non citano il problema vero e più grave, quello delle variazioni territoriali e che causa il maggior mal di pancia a tutti i 90 parlamentari regionali. Ma abbiamo detto da tempo che le elezioni non si svolgeranno e non si potranno svolgere per gli enti intermedi siciliani se prima Gela, Piazza Mirina e Niscemi non vengono ricollocate all'interno della città metropolitana di Catania. Anche questa volta lo avevamo previsto, dice Franzone, non ci hanno ascoltato e adesso i fatti ci danno ragione. L'abbiamo sottolineato il 28 luglio. Siamo stati gli unici ad accoggerci che c'era un problema con il voto ponderato appunto di differenza tra peso dei vari comuni, tra quelli andati al voto a giugno e quelli che invece non avevano votato nelle ultime elezioni. Lo abbiamo segnalato a giugno, c'è stata la pausa estiva, la regione ha voluto perdere tutto questo tempo fino ad oggi. Oggi si sono accorti che il problema non è segnalato a luglio, è un problema reale e non si può andare avanti. Ma oltre ad aver segnalato questo problema abbiamo segnalato anche all'altro problema. Va completato tutto l'iter della legge 15 del 2015, ovvero va completato anche l'articolo 44 che è l'articolo che permette le variazioni di Gela, Piazza Elmeria e Niscemi all'interno della città metropolitana di Catania. Senza questo completamento non si potrà andare neanche in futuro alle elezioni degli enti intermedi. Franzone interviene anche sulla nomina di Catano Armao che fa parte del pool di avvocati che seguirà i comuni coinvolti nelle variazioni territoriali. Quello che si impugna è un atto amministrativo che ne consegue appunto delle leggi 15. Quindi quello che si tentava di impugnare erano appunto le elezioni dell'ente intermedio. Dovremmo attendere ovviamente nuovamente. Giovedì hanno detto che probabilmente voteranno questa legge all'Assemblea regionale e quindi sposteranno le elezioni degli enti intermedi entro gennaio del 2017.